buona sera bella gente siamo ritornati live anche se è influenzato il mio aperitivo di stasera attacchi pirina è stata io questa sera ho un'intervista che non potevo dire di no buonasera roberta buonasera e benvenuta grazie buonasera a te buonasera a tutti allora roberta scusami ma io sono un po tacca pini realizzato un po di medicina in corpo perché ha detto non mi prenderà l'influenza ma quest'anno mi ha preso più tardi che mai ma mi ha colpito allora io ti ringrazio per aver accettato il mio invito a partecipare all'intervista ovviamente è un onore per me essere qui ed è una nuova esperienza per me tre qua perché tu sei abituata a giocare a call of duty mi dicevi no però qualcun altro avvicino scusa volevo fare un po di gex subito iniziale comunque ciao ciao ragazzi ciao benvenuti ciao 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 a tutti quanti partecipate supportate la live allora partiamo subito così so che devi ancora fare delle partite call of duty allora ti lascio poi stare dopo e così dopo gioco allora partiamo subito chi è roberta innanzitutto roberta è una donna di 32 anni che per tutta la sua vita ha fatto l'atleta io ho iniziato ma relativamente tardi in realtà perché avevo già otto anni otto anni e mezzo e ho sempre fatto l'atleta arrivando a insomma partecipare a sbagliate gare però diciamo che è sempre stata la mia occupazione principale fino a quando nel 2017 sono entrata a far parte del gruppo sportivo militare dell'aeronautica e quindi è diventato proprio c'è veramente anche il mio lavoro era già un lavoro perché comunque quando fai lo sport ad alti livelli è un lavoro a tempo pieno però poi è diventato a tutti gli effetti un vero e proprio lavoro ok innanzitutto ringrazio anche i ragazzi che mi hanno risposto le mail per ovviamente farti partecipare quali intervista questa sera mi sa giustamente in chat arrivano già le prime domande ma iniziato subito con il pattinaggio io sì c'è in realtà facevo anche qualche altro sport perché facevo sci di discesa essendo di asiago comunque noi abbiamo anche le piste da sci facevo nuoto ma l'ho fatto veramente per pochissimo tempo perché in realtà poi quando iniziato a pattinare io ho sempre voluto fare solo quello e quindi sì diciamo che ho abbandonato un pochino tutto il resto per fare il pattinaggio a 360 gradi quindi tu hai iniziato otto anni e poi ha avuto un escalation fino diciamo ad arrivare a una meta adulta diciamo grandi linee io diciamo finito da poco con le competizioni ho smesso qualche mese fa quindi io insomma fino a pochissimi mesi fa ho sempre fatto l'atleta quindi ho iniziato sì a otto anni a 15 anni 14 15 anni circa sono entrata a far parte della squadra nazionale e ecco insomma ho smesso pochi mesi fa ok io intanto continuo sia leggerle le mie domande sia quella della chat che mi hanno anche scritto cosa ti ha portato al mondo del pattinaggio ma diciamo che è stato abbastanza come dire a caso nel senso che le scuole organizzavano dei corsi di pattinaggio perché qui da noi tutte le scuole organizzano dei corsi di pattinaggio come di tanti altri sport quindi ho iniziato così provando accompagnata dai maestri di scuola era venuta anche mia sorella all'epoca ad accompagnarmi e però in realtà cioè non è che c'è stato qualcuno che mi ha indirizzato a quello sport è stato proprio semplicemente un provare e un appassionarsi subito a a questo sport ok è meglio iniziare da piccoli a pattinare beh sì generalmente abbastanza consigliato iniziare presto perché comunque quando impari fin da piccolino i primi passi primi movimenti diciamo tutte le basi se vengono imparate quando si è piccoli poi è molto più facile imparare gli elementi più difficili più vai avanti con l'età più alcuni elementi comunque sono difficili da imparare io ho iniziato relativamente tardi perché avevo otto anni però comunque ero molto ci apprendevo molto in fretta ero molto atletica molto sportiva quindi io sono sempre stata molto sportiva in generale nella mia vita quindi questo sicuramente mi ha un pochino aiutata però ecco quando si inizia intorno ai 4 5 anni di solito è l'età più consigliata poi per carità ci sono campionesse del mondo e olimpiche che hanno iniziato a 15 anni poi se uno comunque ha del talento ha voglia di lavorare impegnarsi si può iniziare anche un pochino più tardi insomma ah ok ho capito ho capito e come è nata questa passione per il mondo del pattinaggio cioè è iniziata così abbastanza a caso io ho pattinato mi ricordo che subito ho provato una sensazione bellissima sono arrivata a caso ho detto subito no io voglio i pattini perché ovviamente si patinava con i pattini quelli del pubblico quelli di plastica quindi sono arrivata a caso detto no io voglio i pattini quelli delle pattinatrici quelli bianchi quelli belli perché io mi ero già fatto tutto il mio progetto di vita e quindi ho iniziato così e però subito cioè è stato proprio come un amore a prima vista diciamo ah ok ho capito ho capito e ovviamente mi hai detto che pattini ancora o non pattini più? non gareggi più sono sempre nel mondo del pattinaggio però non faccio più gare l'ultima l'ho fatta ad aprile dell'anno scorso ma quindi ovviamente allora invece quante volte ti alleni e quante volte ti allenavi allora? eh io tante ore nel senso che quando si fa pattinaggio ad alti livelli diciamo che noi ci alleniamo tutti i giorni di base tranne un giorno che ovviamente un giorno di riposo a settimana è consentito facendo circa tre ore al giorno su ghiaccio e poi una barra due ore fuori dal ghiaccio perché ovviamente è uno sport che richiede tantissime abilità e quindi sono anche da c'è tutta una parte da allenare anche in palestra piuttosto che in sala danza ok pesi insomma pesistica anche la parte di forza di pesistica la parte di lavoriamo tantissimo anche sulla danza noi danza moderna danza classica perché ovviamente comunque siamo anche delle ballerine sul ghiaccio quindi comunque dobbiamo saperci muovere oltre ad essere delle atlete quindi è importantissimo anche il gesto atletico posso dire che all'inizio uno pensa ti alleni sul ghiaccio sì vabbè nulla di che poi dopo riflettendo dico cavolo è vero la danza cioè la pesistica tutte queste cose bisogna approfondirle perché comunque uno non è che va lì va dritto cioè infatti poi ti dico tanti purtroppo la parte diciamo fuori dal ghiaccio soprattutto quando si è giovani viene molto sottovalutata perché ovviamente diciamo io voglio andare sul ghiaccio allenarmi sul ghiaccio invece la parte fuori dal ghiaccio è probabilmente cioè forse tanto importante quanto quella sul ghiaccio perché comunque se non sviluppi anche una certa muscolatura quando sei in pista ovviamente sei molle non riesci a saltare quindi sono tutte cose che si possono allenare quasi molto di più fuori dal ghiaccio per poi portarle anche sul ghiaccio ovviamente sì 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 e quando è stato il tuo primo debutto beh io ho iniziato a gareggiare fin da subito in realtà perché ho iniziato otto anni a pattinare a circa nove anni ho iniziato già con le prime gare ovviamente all'inizio le prime gare erano in italia e poi intorno agli undici dodici anni mi sembra di aver cominciato con le mie prime gare internazionali quindi ho iniziato con i circuiti all'estero perché comunque avevo imparato molto velocemente gli elementi abbastanza difficili per essere già nelle categorie diciamo che potevano gareggiare già a livello internazionale quindi io a circa undici dodici anni ho fatto le mie prime gare a livello internazionale ok ma come funziona per quanto riguarda l'attretto di pattinare cioè in base a un'età o come funziona eh sì è sia un discorso di età che un discorso di elementi soprattutto di elementi nel senso che per entrare in alcune categorie devi avere almeno un'età però poi puoi passare diciamo nella categoria dopo anche grazie a dei punteggi che tu ottieni piuttosto che a degli elementi da fare cioè per dire io sono entrata nella squadra senior a quindici anni quindi in realtà avevo ancora tre anni abbondanti quattro per fare la categoria junior quindi io all'estero diciamo gareggiavo ancora nella categoria junior però per dire in italia gareggiavo già in categoria senior perché eseguivo già i santi tripli piuttosto che alcuni elementi che erano richiesti per poter accedere alla categoria senior. Ah ok ok io dico un discorso tipo di skill chiamiamole così. Proprio così ok. Con l'attento ci sono tutti degli elementi richiesti e in base agli elementi che tu sai fare poi decidi uno può anche decidere ok rimango in una categoria un po' più bassa per un anno mi faccio un po' di esperienza magari ottengo qualche risultato in più piuttosto che dire no adesso io voglio andare a confrontarmi con quelli più forti più bravi e quindi faccio già un balzo di categoria. Ok c'è una domanda da ignorante ma tu dici che sai fare determinate cose ma poi c'è qualcuno che te lo attesta? Sì perché si fanno allora quando l'ho fatto io c'era proprio un test un proprio test che tu dovevi partita al giorno a tal ora ti chiedevano di fare il giudice ti chiedeva un determinato elemento tu dovevi saperlo eseguire in quel preciso momento quindi se ti capitava la giornata storta ripregato invece adesso è un pochino cambiata sta cosa nel senso che le ragazze hanno la possibilità di cioè tutte le atleti gli atleti in generale hanno la possibilità di durante una stagione fare un determinato punteggio tecnico piuttosto che alcuni elementi e quindi diciamo che hai anche un pochino di possibilità in più per provare a fare determinati elementi una volta era più un pochino più restrittivo cioè dovevi essere pronto come se fosse il giorno dell'esame devi essere pronto quel giorno lì. Ah ok conosci per caso Bonnie Paul? Bonnie Paul c'è scritto qua? Sì collega. Ah ok ha scritto ti piace la tequila ha detto magari era qualcuno che mi prendeva in giro a me hai capito ho detto magari? No è mio collega dell'aeronautica sì. Ah ok no ho chiesto perché alle volte arriva qualcuno che scrive cos'è? Eh qualche pazzoide diciamo invece no ok ciao Bonnie benvenuto e invece dicevi che hai fatto il tuo primo debutto a 12 anni ho detto ho capito male? Più o meno adesso non mi ricordo esattamente però ho 11 o 12 anni. Ma cosa si prova a debuttare a livello internazionale? Eh beh è una bella emozione nel senso che poi ti ritrovi in un mondo completamente diverso perché poi gareggiare in Italia è una cosa gareggiare all'estero è tutt'altra cioè ti ritrovi comunque delle atlete magari anche tecnicamente molto più forti piuttosto che magari è un confronto completamente diverso rispetto a quello che si ha in Italia quindi è un bel impatto però secondo me ti apre gli occhi ti fa crescere sotto tanti punti di vista ed è fondamentale cioè io lo dico sempre anche alle caccatine che seguo adesso andate confrontatevi piuttosto sentitevi tra virgolette scarse ma dovete rendervi conto di cosa c'è al di fuori non bisogna mai essere fermi solo all'orticello di casa ecco. Ok ma una domanda off che non ti ho non avevo segnato ma ho pensato adesso ma secondo te riguardo questo tipo di sport siamo indietro rispetto al resto dell'Europa? Un pochino un pochino devo dirvi sì soprattutto vabbè a me viene da pensare ovviamente alla Russia che adesso in questo momento anche esclusa dalle competizioni però veramente siamo molto molto indietro cioè io lo vedo soprattutto nelle categorie giovani siamo veramente un abisso indietro e vabbè è un sistema che funziona completamente in modo diverso perché anche a partire dalle scuole comunque in Italia purtroppo tante scuole non supportano gli atleti mentre in Russia sì anzi li fanno studiare a casa pur di farli allenare e pattinare tutto un sistema che funziona in maniera diversa e quindi è ovvio che si riescono anche ad ottenere risultati diversi sin da ragazzini ma perché in Italia sembra che esista solo il calcio cioè io che già seguo effettivamente cioè nel senso cioè io seguo altri sport e già vengo denigrato perché seguo altri sport vabbè giustamente mi chiedono come sul pattinaggio artistico su rotelle non venga calcolato e poi mi hanno scritto quindi sei diventata allenatrice? Sì al momento sto allenando aiutando i ragazzini soprattutto delle delle mie zone della mia regione quindi sì sto allenando un pochino in giro ok ok e qual è stata la tua prima medaglia? anche questa è una bella domanda nel senso che a livello internazionale mi sembra che le prime gare comunque internazionali dove ho ottenuto dei podi comunque era sempre intorno ai 13-14 anni più o meno poi sono entrata a far parte della squadra nazionale quindi ho iniziato a fare anche gare di coppa del mondo quindi gare diciamo di un livello molto più alto la prima quella la medaglia diciamo per me è quella più importante se vuoi ti racconto la mia medaglia più importante in Francia nel 2015 che io ho fatto la mia prima tappa di coppa del mondo senior quindi non più di un normal senior e per me è stato un po' una gara di cioè come dire ok vado è la mia prima coppa del mondo vado e mi diverto no? e invece è arrivato il podio quindi per me quella è stata la medaglia più importante quella che forse meno mi aspettavo e forse proprio per questo sono riuscita anche a pattinare al meglio perché proprio non avevo aspettative volevo solo pattinare al meglio e divertirmi e per me è quella è stata la medaglia più importante ah ok giustamente mi avevano scritto che emozione hai avuto ma praticamente immagino l'euforia no io non me l'aspettavo quindi per me è stato veramente anche perché comunque gareggiamo con delle atlete molto forti quindi si dicevo cioè nella mia testa c'era vai e fai del tuo meglio punto poi quello che arriva arriva e invece poi è stata una gara come in tutte le gare ovviamente ci vuole anche un pochino di fortuna nel senso che alcune atlete molto forti avevano pattinato veramente male e quindi anche questo diciamo io ho pattinato molto bene quelle diciamo un po più forti hanno pattinato meno bene e quindi è arrivata la medaglia ovviamente come in tutte le gare ci vuole anche quello non dipende da te ma anche da quello che fanno gli altri ma a distanza di anni ancora si sente cioè si sentiva scusa la pressione del del gareggiare cioè della gara di tantissimo io ho sempre sofferto abbastanza di tensione pre gara soprattutto mi ricordo le notti in bianco prima delle mie gare più importanti che la mattina dicevo oddio come faccio a gareggiare ma poi in realtà quando gareggi hai talmente tanta adrenalina in corpo che va bene tutto però è una cosa che anche quella secondo me con gli anni poi in generale c'è chi magari soffre di più chi meno di tensione però si impara a gestire cioè tramite non so io ho sempre lavorato tanto anche con esercizi di respirazione piuttosto che di concentrazione poi io sono sempre stata molto una macchina nel senso nel momento in cui gli allenamenti andavano bene e arrivavo anche in gara molto più serena e sapevo che sarei riuscita comunque a performare bene perché andavo abbastanza in automatico cioè io me lo dicevo sempre metti il pilota automatico e vai poi tensione a volte può giocare brutti scherzi e poi anche arrivare super preparato e non riuscire a dare del tuo meglio insomma però quando almeno su di me io ho visto che è sempre funzionata cioè quando arrivavo che ero sapevo di aver fatto due mesi di allenamenti vabbè non sempre al top ovviamente però certo arriva preparata anche la tensione scendeva un pochino ok e avevi un rituale prima di metterti i pattini insomma un mantra io sempre anche poi molto scaramantica avevo i meriti scaramantici piccoli gesti insomma anche banalità che a volte mi ritrovavo a farli magari davanti allo specchio dicevo ma sei matta o cosa però sono cose che ho sempre fatto fin da piccolina e me li sono portati indietro dietro per tutta la carriera insomma ovviamente non vi ripetiamo qua perché non vogliamo che la fortuna sua passiamo ad altri la sua fortuna non vogliamo come consideri il pattinaggio di adesso è un pattinaggio che è diventato veramente tanto difficile nel senso che il livello è arrivato veramente c'è un livello veramente estremo per riuscire ad essere al top mondiale il livello è veramente estremo e quindi è difficile purtroppo credo che molte atlete cioè se vuoi arrivare lì ci vuole veramente un impegno e uno sforzo anche proprio fisico cioè purtroppo adesso i confronti che abbiamo sono quelli di ragazzine di 14 15 16 anni che fanno già stic salti quadrupli che fino a qualche anno fa nelle panorama femminile non esistevano quindi il metro di paragone è veramente importante e quindi è un pattinaggio anche pericoloso cioè lo vedo che è proprio anche pericoloso a livello di se vai a provare determinati elementi il rischio di farsi male e non dico rovinarsi la carriera però comunque farsi del male è importante c'è un rischio molto alto quindi sono un po spaventata devo dire anche se penso proprio alle ragazzine che crescono eccetera se vuoi arrivare a certi livelli bisogna veramente mettersi in gioco in tutto e per tutto dici che prendono un po lo sport un po sotto gamba non hanno paura dell'infortunio forse in generale vedo generazioni che sono un po spaventate nel far fatica nell'impegno è comunque uno sport che veramente richiede tantissime ore di allenamento esistono pochi giorni di riposo ci sono poche giorni di festa di svago e cioè noi anzi per dire solo nei periodi in cui ci sono delle festività in realtà per noi sono giorni in cui ci si può allenarvi più perché ti può allenare per dire le ragazzine che vanno a scuola si possono allenare anche al mattino quindi è proprio un è uno sport che lo fai se davvero hai una passione enorme se no diventa veramente impegnativo oppure lo fai arrivi al tuo livello c'è al massimo che ognuno può fare basta però se uno aspira a far qualcosa di più bisogna davvero metterci l'anima ok ok chi è la tua pattinatrice preferita beh il mio idolo è sempre stato una pattinatrice americana si chiama michelle quon lei ha vinto tantissimo ha vinto una roba come nove o dieci mondiali non ha mai vinto le olimpiade però ha fatto due medaglie olimpiche se non sbaglio sì un bronzo e un argento e lei è sempre stata io mi ricordo ancora adesso io mi ricordo a memoria tutti i suoi programmi che guardavo ancora io ho iniziato a patinare nel 98 circa nel dal 99 2000 mi guardavo tutte le gare che facevano in tv me le registravo tutte ancora con le videocassette me le riguardavo per giorni e giorni e giorni e le ricordo ancora adesso come fosse ieri e lei è sempre stata il mio idolo perché poi patinava oltre ad essere bravissima ovviamente tecnicamente la vedi proprio patinare con gioia con gioia è un aspetto che piace tantissimo vedere proprio quando una ti trasmette la passione per lo sport che non è solo la tecnica il salto l'elemento ma è proprio anche trasmettere emozioni e molti dicono beh esecuzione perfetta però poi non mi è trasmesso e purtroppo è quello che vedo un po nel patinaggio adesso cioè il livello è arrivato talmente in alto che si aspira sempre a quel gesto tecnico estremo che però poi non ti lascia niente bello il momento in cui una fa il quadruplo però poi cosa rimane non c'è più c'è meno coreografia c'è meno c'è meno pattinaggio c'è meno artisticità è proprio il gesto tecnico e basta cioè ok ho capito cioè si punta più al gesto tecnico per fare l'ho dagli spalti mentre invece la coreografia zero punti il punteggio tecnico cioè alla fine il risultato la classifica un punteggio quindi ovvio che si aspira a fare il punteggio massimo che uno può fare però forse poi perde un po la bellezza del patinaggio insomma ok le coreografie cosa tempista sono fatte da voi no allora meno che uno non sia un artista che se le fa da solo però in genere noi abbiamo come su ogni ogni attività che noi facciamo è seguita da uno specialista per dire in pista tu hai il tuo tecnico in palestra il preparatore atletico in sala danza e la maestra di balletto e per le coreografie c'è il coreografo che poi tante volte lo può fare anche il tuo allenatore nel senso se hai un allenatore il mio ultimo allenatore comunque libera molto bravo anche fare le coreografie quindi tante volte si occupava proprio lui di fare le coreografie dei propri atleti e altrimenti se invece una voglia di provare un'esperienza nuova piuttosto che un coreografo di alto livello ci sono tanti coreografi proprio specializzati solo in quello quindi tu magari vai dal coreografo ti fai montare diciamo il programma di gara e basta insomma cioè ma poi devono venire approvati o che ne so io sempre chiesto perché alle volte quando vedo tipo degli spettacoli sono musiche differenti ma bisogna avere un range specifico del balletto bisogna fare un determinato tipo di cose come funziona beh allora all'interno del programma c'è un regolamento che deve essere rispettato cioè tu devi avere un tot di salti un tot di trottole ci sono degli elementi tecnici che proprio devono essere rispettati poi però su quello che è la coreografia ovviamente devi seguire la musica avere per dire un personaggio da interpretare quindi quelle sono tutti aspetti che tu lavori proprio con il tuo coreografo ovviamente devi scegliere una cosa che sia una musica che sia adatta a te al tuo modo di pattinare se vuoi interpretare un personaggio deve essere un personaggio che tu riesci a interpretare insomma è tutto un aspetto anche quello molto richiede anche molto tempo soprattutto per trovare il tuo programma ideale ci vuole del tempo ci vuole del tempo bisogna star via ad ascoltare tante musiche bisogna provare anche tante volte la cosa migliore è provare provare a pattinare vedere su quale musica sia più portati a pattinare e su quale magari meno anche quello ma sto pensando adesso mi hai fatto riflettere su quante persone alla fine lavorano dietro a una pattinatrice e sì tantissime infatti diciamo che quando noi gareggiamo non sembra ma c'è un lavoro dietro che è enorme ci sono tante persone c'è proprio un lavoro a livello cioè tu gareggi fai due minuti e mezzo di programma un giorno e quattro minuti il giorno dopo queste sono le nostre gare cioè in sette otto minuti ti giochi tutto il lavoro che uno fa ed è un lavoro abissale tante ore tante persone tante prove tanti allenamenti tanti tentativi per dopo giocarti tutto in pochissimi minuti è la parte diciamo più difficile del nostro sport sì 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 e mi hanno scritto ti è mai capitato di dimenticarti dei passi sì 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 mi è capitato da ragazzina me lo ricordo benissimo mi sono messo in mezzo alla pista e facevo cosa devo fare ma durante una gara sì sì durante una gara sì 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 eh no ero proprio nel panico più totale però lì ero piccolina e poi mi è capitato un'altra volta che ero un po più grande che anche lì ho iniziato a sbagliare penso di essere caduta una roba come cinque o sei volte durante un programma continuavo a cadere mi rialzavo a un certo punto mi sono proprio andata in blackout più totale e non mi ricordavo più niente e vagavo per la pista finché finiva la musica e così capita anche quello vabbè sono cose che capitano ovviamente i programmi di gara si fanno talmente tante volte che veramente diventa un gesto proprio automatico però può succedere se hai un momento di panico piuttosto che di blackout può succedere anche quello siamo persone non siamo dei robot ci tengo invece alle olimpiadi come funziona il programma per le esibizioni è uguale è uguale a tutte le altre gare nel senso è una gara alla fine l'olimpiade è una gara con un'altra cioè non cambia niente rispetto ad un mondiale piuttosto che a un europeo noi andiamo sempre in gara con i due programmi di gara il programma corto e il programma libero e tu fai quelli tutto l'anno in tutte le gare qualsiasi gara tu fai sono sempre quelli due programmi che si presentano quindi per quello ti dico diventa veramente un gesto automatico perché tu tutti i giorni provi quei due programmi lì ah io pensavo alle olimpiadi fosse qualcosa di un po' più è sempre la stessa gara cambia tutta l'organizzazione insomma tutto quello che gira dietro un'olimpiade però concretamente poi quello che tu fai è quello che fai in tutte le altre gare i costumi che avete da chi vengono realizzati allora dipende ci sono le sarte ci sono anche tante mamme che magari si specializzano ci sono anche allenatori che magari sono hanno la passione di fare i costumi di gara fanno i costumi di gara io personalmente mi sono sempre affidata a delle sarte poi ovviamente tu trovi anche quella più adatta a te quella che ti piace di più quella anche perché comunque anche i costumi di gara hanno dei bei costi hanno dei bei prezzi quindi bisogna anche un attimino valutare quello e trovare la sarta che ovviamente riesce a farti il modello che piace a te il modello adatto a te negli anni comunque ti affidi a delle persone titolo ti trovi bene con delle persone magari rimani con quella persona per per più stagioni insomma ho capito che qualcuno ha scritto lo so ma cosa intendete lo so per il prezzo degli abiti ma se non so perché io avevo conoscevo una persona che mi aveva detto intorno però faceva latino americano un'altra cosa intorno ai 1000-1500 mi aveva detto ovviamente dipende anche da come tu fai il vestito cioè tu puoi andare in gara con un vestito senza niente che ti costa 100 euro però inizia ad appiccicarci gli svaroschi piuttosto che i ricami e questo quell'altro comunque vanno costati i costumi della danza adesso non so le cifre proprio esatte ma ci sono alcuni costumi che costano anche 4-5 mila euro a mia sorella costumi messi mezza volta sono costati un sacco eh sì infatti poi i costumi a volte si prova anche a riutilizzarli magari la stagione dopo o magari fai delle piccole modifiche e lo riutilizzi perché già io la stagione scorsa ho usato costumi che usavo 5-6 anni fa perché ho detto no cacchio che spendo altri tanti soldi adesso provo a riutilizzare dei costumi vecchi magari li modifico un pochino e puoi benissimo riutilizzarli insomma non è sempre consigliato nel senso che comunque anche il giudice che ti vede magari per dire nel mio caso avendo fatto europei mondiali queste gare qua il giudice che ti vede per magari due stagioni tre con lo stesso costume non è proprio indicato però insomma uno deve anche farsi due conti in tasca ogni tanto giusto giusto ah infatti mi ha scritto mia sorella faceva patinaggio artistico su hotel e il meno caro veniva a 200 euro sì sì ci sono vestitini super semplici che magari spendi con le cifre lì e poi ovviamente più di arricchisci costano ma scusa la domanda indiscreta poi mandami anche a quel paese ma che senso ha contornare di Swarovski un abito se poi io devo vedere l'artista quello che fa cioè la tecnica è solo per la scena beh sì comunque tu quando sei in pista devi essere bella devi essere elegante devi essere truccata bene devi essere pettinata bene se hai un bel abito addosso è ancora meglio no? è curioso perché uno dice ah beh ma perché magari lo sponsor vuole che uno si veste in un certo modo che ne so no no è una questione proprio estetica poi c'è chi ma ci sono anche campionessi del mondo che sono andate in pista con vestiti super semplici cioè non è che il vestito fa l'atleta ovviamente tu devi andare a pattinare appunto però ovviamente un bel vestito ricco che fa scena che colpisce l'attenzione anche del giudice è importante ok ok a me l'abito fa il monaco in questo caso veramente formidabili cioè tale volta ah sì hai mai avuto un infortunio che ti ha fermato per un po' eh purtroppo sì allora devo dire che io sono stata abbastanza fortunata nel senso che non ho mai avuto infortuni lunghi o grossi però ne ho avuto uno diciamo in 25 anni di carriera ne ho avuto uno che mi è bastato per tutta la carriera perché sono rimasta ferma un anno e mezzo ho avuto praticamente da una mononucleosi poi lì sono scaturiti altri problemi proprio sì metabolici ormonali insomma tutta una serie di cose e lì ho dovuto fermarmi ho dovuto ci ho messo tanto tempo anche a riprendere perché ovviamente il fisico era tutto un po' scombinato quindi sono rimasta tanti mesi ferma lontana dal pattinaggio poi ho dovuto fare proprio tutto un seguire un programma di preparazione atletica specifico e adeguato e poi un po' la volta sono ritornata su ghiaccio insomma è stato terribile immagino stare sì terribile terribile anche perché poi stavo proprio male io per mesi sono andata avanti dicendo ma io non sto bene non sto bene cosa c'è che non va cosa c'è che non va non si capiva all'inizio non si capiva esattamente cosa fosse poi poi la volta l'abbiamo scoperto però ovviamente sono passati tanti mesi la cosa è andata veramente tanto per le lunghe io sono stata una stagione intera senza gareggiare ed è tanto è un periodo veramente lungo per noi perché poi comunque rimani fuori scendi un po' nel ranking mondiale comunque non gareggiare per tanto tempo non aiuta anche mentalmente comunque non aiuta quindi sì non è stato facile ecco ok visto che siamo quasi arrivati alla fine ti ho abbastanza disturbato e come come hai deciso invece di far parte dell'aeronautica militare beh diciamo che io ho partecipato ad un concorso pubblico statale quindi era quell'anno era il 2017 è uscito il concorso per un'atleta donna del settore del patinaggio artistico e io ho presentato domanda ho fatto il concorso sono entrate in aeronautica cioè diciamo che quell'anno lì è uscito quel concorso lì quindi io ho preso parte ad un concorso pubblico ho vinto il concorso insomma così che sono entrate in aeronautica ma come state indossate la divisa? è una bella emozione soprattutto il giorno del giuramento è veramente bello è un'emozione anche perché poi noi comunque a parte che la divisa la indossi veramente poco la divisa ufficiale insomma e noi abbiamo sempre la divisa quella sportiva no? essendo atleti però è un'emozione enorme enorme anche perché a me comunque l'ambiente militare è sempre piaciuto molto è stata una bella emozione cioè forse se mi ricordo come da piccolina mai mi sarei aspettata immaginata no? una cosa del genere quindi poi quando riesci ad ottenerla è una grande soddisfazione ma e cosa ti ha spinto? cioè io sono curioso hai fatto il concorso ma c'è stato qualcosa che hai detto voglio far parte dell'aeronautica no diciamo che non funziona esattamente così più che altro perché noi è come dire è uno sport molto costoso ok? quindi ovviamente si cercano degli aiuti anche la federazione non sempre riesce a supportare gli atleti in tutto e per tutto e quindi quando riesci ad entrare a far parte di un gruppo militare anche a livello economico è un enorme aiuto quindi diciamo che è stato un concorso che è stato aperto per questo settore per un atleta insomma del patinaggio artistico io ho partecipato al concorso è andato bene poteva anche andare male poteva non entrare e magari provare un altro concorso che sarebbe uscito boh non si sa quando perché poi i concorsi purtroppo non escono così spesso e eventualmente avrei provato a partecipare ad un altro concorso però ovviamente a me cioè è molto prestigioso io mi sono sempre sognata pochino l'aeronautica no? per me è molto prestigioso quindi ancora più contenta di essere sì in un gruppo militare ma quello dell'aeronautica ah beh mi fa piacere questa cosa e allora finiamo questo pezzo dell'aeronautica chi vorrebbe iniziare a far parte cosa ne pensi cosa consiglieresti anche ma chi vuol pattinare dici? sì e poi facciamo ti faccio anche quella sull'aeronautica che mo' sono curiosa eh beh allora per pattinare cosa consiglio? consiglio di avere tenacia di avere tanta forza di volontà e tanta passione ovviamente come per qualsiasi altro sport la passione muove qualsiasi cosa e siccome è uno sport che comunque richiede tanto impegno sia fisico che economico che mentale tutta una serie di fattori consiglio appassionatevi a questo sport perché è veramente uno sport bellissimo può essere difficile sotto tanti punti di vista però poi ti può anche portare tante soddisfazioni insomma quindi questo è quello che mi sento di consigliare insomma e invece per quanto guarda l'aeronautica? beh io sono di parte ovviamente no? ovviamente sono di parte però diciamo che quello che posso consigliare è che l'ambiente militare è un ambiente molto interessante ed è bello ed è bello anche viverlo da atleta cioè è qualcosa che forse al quale noi non siamo abituati però quando entri a farne parte è un nuovo mondo un nuovo mondo interessante poi fondamentalmente noi facciamo la vita dell'atleta non è che cambia qualcosa a livello di vita di atleta nel momento in cui entri a far parte di un gruppo militare però è bello anche vedere quel mondo lì quando facciamo i raduni insomma quando noi facciamo queste cose qua è bello anche appassionarsi a qualcosa che va un pochino al di fuori del tuo ambiente sportivo quindi appassionatevi anche quello allora Roberta io ti ringrazio abbiamo fatto 40 minuti di chiacchiera io di solito lascio l'ospite che gli chiedo sempre qual è il motto il suo motto qual è il motto di Roberta il motto di Roberta attenzione l'ho mandata in crisi ma infatti non te l'ho messa nelle domande per non prepararti no io penso che in tutto quello che ho sempre fatto nella mia vita forse l'ho già anche ripetuto più volte però proprio la passione di fare qualcosa con passione perché poi intanto tutte le fatiche vengono un pochino ripagate e perché diventa più facile fare tutto quello che fai diventa più facile se sei mosso dalla passione quindi quello che io è un po' il mio motto di vita cioè io non faccio mai niente che non sia qualcosa che davvero mi appassiona piuttosto mi butto su qualcos'altro perché so che se la passione ti muove non ti stufi mai ecco giusto allora io Roberta io ti ringrazio è stato un piacere un piacere spero che farà una bella recensione su di me se qualcuno ti chiederà ok certo mi metti 5 stelline su TripAdvisor e e voi io ti saluto ti mando un abbraccio gigantesco un abbraccio anche a te è stato un piacere grazie ciao Roberta buonanotte con una serata aspetta vediamo se riesce a uscire un attimo devo fare abbandonato sì sì con calma tranquilla ciao 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 Sì